Vai via un attimo Ciao a tutti, io sono Michele e oggi registro di Airgears Questo è un manga di Allgate Che secondo me è un attore proprio... C'è proprio... Così? E' così Insomma, Airgears è scritto da solo Altre opere sono un sacco di Entei e In penna e paradiso Ma penso che tutti voi abbiate letto più che altro di Entei Perverti di film Quindi... L'autore... Insomma è un pervertito però fa anche dei manga fitti come Appunto Airgears Insomma... Il protagonista è questo che ho trovato qua Si chiama Ikki E' un tempista che cartula tutti Ehm... Se lo dili? Sto a fare una recensione io Ehm... Ehm... Insomma... Vive con le sue sorelle Sono qua Questa è Ringo Questa che sta palpando è Ringo E poi quest'altra è le sue incazzate nere Sono le altre Che però... Mamma mia Cioè gli fanno un culo Eccole qua Un'altra immagine molto più bella Ehm... Godetele Ehm... Insomma... Ehm... 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 Che dire... Si... In questo manga ci stanno... Questi qua Che sono le Airdre Ovvero dei pattini a rotelle Che non sono pattini a rotelle Ma sono tipo delle macchine assassine Ehm... Perchè se... Se l'esercito usasse queste macchine Cioè quel bel culo a tutti Ah... Invece no Loro li usano per gazzeggiare tra di loro Ehm... Si fanno delle bande Come appunto Possiamo vedere da Da questo Dai logo Degli adesivi Ehm... Insomma C'è sta gente Che fa botte con queste cose E si fanno Un sacco di Gare Alcuni muoiono Altri vivono Cioè solo per dei pattini Così Insomma La gente muore per i pattini Ehm... Ehm... E anche... E per questo Secondo Michele Ehm... All Great E' un autore Un autore Un autore Ehm... Che dire di Air Gear Questo manga è figo Io sono arrivato Al diciassettesimo volume Perchè mi ero rotto le palle Ehm... Invece Michele l'ha continuato Che dici degli altri volumi di Michele? Lascia stare da uno Che dici degli altri volumi di Michele? E' veramente figo Ok Beh... Ehm... Per oggi è tutto Ciao a tutti